Il prefetto di Sernia, Franca Tancredi, ha accolto l'invito del sindaco Piero Castrataro convocando d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Obiettivo del tavolo, cui hanno partecipato tutte le forze dell'Ordine e del territorio, il coordinamento delle attività di controllo nelle aree sensibili della città, dove si sono verificati atti vandalici e dove sono state rinvenute alcune siringhe con particolare riferimento alla villa comunale, al parco della stazione, al centro storico. Preoccupa l'incremento significativo di segnalazioni nelle ultime settimane, come se il consumo di droga, eroina in un special modo, fosse aumentato considerevolmente. Il prefetto ha promesso il massimo impegno nel monitoraggio del fenomeno, invitando però tutti, istituzioni e cittadini, a non esacerbare i toni. È una tematica fondamentalmente che riguarda il degrado urbano, quindi la sicurezza urbana, ma questo non esclude il fatto che comunque sul piano del contrasto e poi della prevenzione le forze dell'Ordine già non si siano mosse. Ma si sono mossi già da un anno fa, più di un anno fa. Sono stati implementati tutta una serie di servizi straordinari che vengono decisi in sede di comitato, ma anche di riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'Ordine. Implementati ulteriormente, a partire dalla scorsa primavera, proprio nel territorio del comune di Isernia, di Venafro, e verranno ulteriormente implementati anche in altri comuni. Ovviamente non diciamo, e non dico in quali altri comuni, che noi abbiamo già individuato, individuato già da luglio. Qua non abbiamo tanto piazze di spaccio, ma piazze di consumo. Allora si potrà intervenire con tutta un'altra serie di misure, ma che coinvolgono altri soggetti istituzionali, con il coordinamento della prefettura. Nell'ambito di tavoli, che sono diversi dal tavolo del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, proprio per meglio enfatizzare il concetto di multidisciplinarietà.